Purtroppo in Italia e nel mondo la parola prevenzione è diventata sinonimo di diagnosi precoce. Per carità la diagnosi precoce è realmente importante, ma c'è un grande ma. Il vero significato della parola prevenzione è evitare di ammalarsi mediante modifiche strategiche del nostro stile di vita. E sapete una cosa? Funziona! E allora qual è il problema? Come mai nessuno investe e investirà mai su quest'area della medicina? Semplice perché una persona che non si ammala non spende soldi, fa meno visite, compra meno farmaci, va meno in pronto soccorso. E purtroppo a questo mondo è la medicina riparativa a dominare proprio perché favorisce i guadagni miliardari di tutta l'industria della salute. Mi raccomando informatevi bene su cosa significa realmente prevenzione e soprattutto organizzatevi per essere autonomi ottenendo le migliori informazioni per creare un vostro percorso di benessere, salute e longevità.